Parte dall'Italia il roccio europeo di nuova Twingo. Quattro coloratissime Twingo partite da Roma, faranno il giro d'Europa passando per Milano per approdare nelle città più importanti di Europa, Parigi, Londra, Amsterdam e Monaco. La scelta di partire dall'Italia dimostra l'importanza di Twingo per il nostro paese. Da una parte per il peso del segmento nel quale andrà a competere, d'altro canto perché l'Italia è il paese del design e dello stile. Dopo una breve anteprima al Salone del Mobile di Milano, Twingo svela la sua innovativa architettura con motore posteriore e i suoi numerosi vantaggi. 1. Abitabilità Twingo è 10 cm più corta della versione precedente, ma 22 cm più spaziosa all'interno. 2. Maneggevolezza con il miglior raggio di stazzata Praticamente Twingo gira su se stessa. 3. Praticità Per la prima volta con 5 porte, 4 persone potranno accedervi contemporaneamente in tutta tranquillità. 4. Visibilità Con la posizione di guida rialzato Twingo offre la visione anteriore migliore della categoria. 5. Come per la famosa Twingo 1, nuova Twingo offre una grande capacità di carico perché è l'unica a poter trasportare degli oggetti lunghi 2,20 m. Niente male per una piccola city car che misura solo 3,59 m. È piccola fuori, ma riserva tante, tante piacevoli sorprese all'interno. Twingo è l'interpretazione moderna dell'auto di città, della city car, per un divertimento assicurato. Nuova Twingo? C'è aria di divertimento in città, più grintosa e più accattivante con il suo sguardo espressivo e il suo carattere allegro e dinamico. Nuova Twingo è un'auto dei mille volti. Progettata per l'ambiente urbano, grazie alla nuova architettura ribaltata, offre il miglior raggio di stersata della categoria. Twingo gira su se stessa e parcheggiare non è più un problema. Più compatta della precedente, ma è più spaziosa all'interno. Nelle je son fait 10 cm più corte all'esterno, 33 cm più spaziosa all'interno. Una lunghezza di carico di 2,31 m, 52 litri di vani portaoggetti e per la prima volta con 5 porte non si dovrà più aspettare che i passeggeri posteriori entrino per poter accedere al posto di guida. Muso corto, posizione di guida rialzata e un angolo di visione verticale di 12 gradi. Con questo nuova Twingo garantisce una visibilità da widescreen, come se fossimo al cinema. Nuova Twingo è proprio un'auto a misura di città. E poi non dimentichiamo i giovani super connessi. Oltre al tablet a colori arriva su Twingo il sistema Orango che vedete qui, che permette di connettere il proprio smartphone alla vettura in modo pratico e intelligente. Con nuova Twingo è il momento di divertimento.